C'è un tempo per giocare, un tempo per sognare, c'è un tempo per correre, per ridere, immaginare. Questo è il loro tempo. Proteggiamolo insieme. Quest'anno costruiremo a Roma la grande casa di Peter Pan, per accogliere sempre più bambini malati di cancro, insieme alle loro famiglie. A questo servirà il tuo 5 per 1000. Peter Pan, c'è un tempo per essere bambini.